Il risparmio responsabile è parte dal DNA di poste da sempre perché il nostro gruppo ha contribuito negli anni all'inclusione finanziaria di milioni di italiani attraverso il risparmio postale, il conto corrente e le carte prepagate. Per noi oggi il risparmio responsabile vuol dire proseguire con una consulenza finanziaria che sia sempre più vicina ai bisogni che ci esprimono i nostri clienti. Per fare questo Poste Vita e Banco Posta Fondi SGR hanno tra l'altro di recente aderito ai principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite perché in questo modo sottostanti a tutti i prodotti che noi distribuiamo vogliamo che ci siano investimenti che si ispirano a criteri di sostenibilità e a principi SGR. Per noi il digitale è un'opportunità, già oggi abbiamo affiancato ai nostri 13.000 uffici postali attraverso il quale serviamo ogni giorno un milione e mezzo di clienti, i nostri canali digitali, la app e il nostro sito attraverso il quale serviamo un altro milione e mezzo di clienti tutti i giorni per le loro esigenze di pagamento e transazionalità. E pensiamo che il digitale anche nella gestione dei risparmi avrà uno spazio sempre più importante in futuro e per questo proprio qui al Salone presentiamo un nuovo servizio di consulenza digitale dedicato proprio a quei risparmiatori che vogliono gestire i loro risparmi con un canale digitale senza però rinunciare al supporto di un consulente che possa assistere.